Ok ad alloggi con canone convenzionato. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, gli assessori Emanuela Di Giovan Battista al sociale e Fabio Pelini all'assistenza alla popolazione hanno presentato in conferenza stampa una delibera di giunta sull'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per alloggi in locazione a canone convenzionato, rivolto a quelle fasce di popolazione di reddito medio e medio basso che, escluse dall'edilizia residenziale pubblica, potrebbero essere interessati a stipulare contratti di locazione temporanea o transitoria. L'intento è quello di effettuare un preventivo monitoraggio allo scopo di predisporre un elenco di eventuali soggetti interessati cui attingere da parte delle associazioni di categoria dei fondi immobiliari a venti finalità etiche degli operatori del settore e comunque da parte di tutti coloro i quali abbiano la disponibilità di alloggi ad uso residenziale sul territorio del comune dell'Aquila, da destinare a locazioni temporanee o transitorie, eventualmente con possibilità di riscatto a canoni convenzionali. In particolare l'amministrazione si rivolge alla popolazione studentesca, quella scientifica e lavoratori presenti sul territorio, ivi comprese le forze armate, gli sportivi e coloro che vogliono procedere al ricongiungimento familiare, alle giovani coppie, ai monogenitori con figli e ai giovani soli quali per la propria condizione reddituale siano esclusi dall'edilizia residenziale pubblica ma al contempo non abbiano un reddito lordo superiore a 35 mila euro calcolato per il nucleo familiare per il quale intendono presentare la domanda. Il coinvolgimento del comune consiste nella sola acquisizione delle manifestazioni di interesse e nella sola compilazione di un elenco per tutti coloro che appartengono alle categorie elencate e che abbiano i requisiti richiesti. La scelta del conduttore pertanto spetterà insindacabilmente allocatore proprietario che potrà attingere dall'elenco a propria discrezione, restando il comune estraneo ad ogni fase preliminare di stipula del contratto come ad ogni fase successiva ed estraneo ad ogni responsabilità, obbligo o dovere. L'avviso sarà pubblicato nei prossimi giorni.